Avete parlato di musica, avete parlato di Mozart, c'è un autore francese, Marché, che scrive tre libri, Il barbiere di semiglia, Le nozze di figaro e La madre colpevole. L'opera, Le nozze di figaro, si apre appunto con il giorno delle nozze di figaro, Quindi con la contesta si sono sposati, è passato del tempo, forse il rapporto si è anche un attimino elaborato, e il nostro buon figaro si deve sposare, mettere effettivamente in scena una delle scene dell'opera, senza cantarla, ma recitandola. Ti imbarazzo mai questo? Un foglio anonimo. A cameriere... Ok, dai, però sentiamo un minimo di tensione da subito, no? Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo? Un uomo che salta dal bocone in giardino. Un altro appresso, che dice d'essere col destro. Quello che potete ripassare l'avete già ripassato, non vi preoccupate. Allora, perché ti asistinavi a dirmi no? Quanto basilio è da parte di me. Ma che mio sogno c'era, che consiglio. Il processo l'hai già vinto, stavo per incappare in una bella traccia. Oh, cagli solenti miei, li punirai in modo tale. Una bella sentenza. Proprio giusto. Grazie. Grazie.